Alberto Cervi diventa un giocatore del Cagliari a titolo definitivo. Lo comunica la Juventus in una nota ufficiale apparsa sul proprio sito. L'attaccante si era trasferito in prestito al club Osobio a inizio stagioni, e dopo il verificarsi delle condizioni contractuali inserite nell'accordo, è ora scattato l'obbligo di acquisizione definitiva. Plus valenza, il club sardo verserà nelle casse di quello bianco-nero 9 milioni di euro pagabili nei prossimi tre esercizi per una operazione che genera un effetto economico positivo di circa 8,4 milioni, o più della Juventus, che aveva già realizzato altre plus valenze con le operazioni legate a pagare. Non bravo la maschina, Cervi ha disputato l'ultima partita in Serie 3, il 29 dicembre scorso, contro l'Udins, poi ha saltato le cinque sfide successive per un importe.